Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud e tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di varico Baccheraia. In A11 sul raccordo Lucca-Viareggio, code per lavori tra l'allacciamento con la 11 a Lucca e Massarosa in direzione Viareggio. Spostandoci in A12 i rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. All'interno di questi rallentamenti si sono formate code per un incidente al chilometro 108-800 tra Versilia e Sarzana. Il traffico invece scorre in maniera regolare sulla FIPILI. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!